Rendere la cultura prova di futuro trasferendo le opere materiali deperibili su supporti digitali, proteggendole dall'usura e allo stesso tempo rendendole fruibili al grande pubblico. E questa è la sfida che le aziende e le istituzioni devono affrontare se vogliono sfruttare tutte le possibilità che la diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione concede. La nuova parola d'ordine è digitalizzare, ovvero trasformare un'immagine in un testo da leggere, elaborare e sul quale è possibile fare anche delle ricerche. Una pagina di giornale non più è soltanto una fotografia che io posso sì vedere su uno schermo ma che rimane un'immagine che io devo interpretare completamente col mio cervello, con i miei occhi prima e con il cervello, ma diventa invece una struttura dove vengono sezionate automaticamente gli articoli, dove vengono individuate le parole e dove io posso quindi cominciare a fare delle ricerche. In Piemonte il braccio operativo della dematerializzazione informatica è il CSI, Consorzio per il Sistema Informativo, che l'anno scorso ha presentato per la prima volta in Italia un progetto di digitalizzazione dell'archivio storico di un quotidiano. Tutti i numeri della stampa dal 1867 ad oggi sono stati resi accessibili gratuitamente online a tutti gli utenti del sito lastampa.it. CSI Piemonte è il braccio operativo della pubblica amministrazione piemontese anche su questo tema, e quindi la dematerializzazione, il recupero di tutto il patrimonio documentale che ha valore legale, storico e culturale, il suo recupero, la sua catalogazione intelligente, la sua digitalizzazione e soprattutto poi, e questa è la nuova frontiera, la messa in condivisione di questo enorme patrimonio e quindi l'apertura e l'accesso libero da parte del cittadino. La digitalizzazione dell'informazione mette immediatamente a disposizione di tutti gli utenti del web un patrimonio inestinabile di conoscenza, preservando allo stesso tempo l'integrità del testo originale, messo a riparo dall'usura del tempo. Una volta se qualcuno voleva consultare gli archivi della stampa, doveva venire al giornale, andare in archivio, chiedere il permesso di aprire un vecchio polveroso volume e cercare all'interno di questo volume la cosa che lo interessava. La scansione dei documenti è solo l'inizio del percorso, il futuro del CSI Piemonte va verso la digitalizzazione delle risorse culturali della nostra regione e un utilizzo più caldo delle tecnologie.